Buuuuun Che già sta gi- Nuolo lunga sta casano se mi esci Tiene così un guadagnolo Buona? Sì Buona 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 2 1 2 Vai Pirbì Buona Acqua .. Può essere 3 No Una se uno è pronto uno co, se ti metti ugualmente e uno algo beh un'amica, non lo metto tu come no? no te vai a fare ah ah poi ci viene la più e ora ci viene la più e poi ci viene la più e poi ci viene la più appassione ma non mi sa cần e non ci venite ma non mi sa me è capace è ora c'è uno non è capace non è capace ma lui ti è cosiddetto si tratta ma niente non è capace ma non è capace non è vero Il suo giusto è un dupo no 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 ok oh no, non c'è da vincere mancino delle vincere e a mezz'amissir ma guida è andato fa tu andando 2 e 3 0 2 Vai al caiale com'è stato l'idea